Jason La battaglia stava andando alla grande, finché non lo trafissero con una spada. Jason disegnò un ampio arco con il suo Gladius, disintegrando i proci più vicini. Poi superò il tavolo con un balzo, saltando sopra la testa di Antino. A mezz'aria, ordinò alla lama di trasformarsi in giavellotto, un trucco che non aveva mai tentato con quella spada, ma in qualche modo sapeva che avrebbe funzionato. Quando atterrò saldamente in piedi, impugnava un pilum lungo quasi due metri. Non appena Antino si voltò ad affrontarlo, Jason gli conficcò la punta d'oro imperiale nel petto. Il ghoul chinò lo sguardo incredulo. Tu goditi i campi della pena! Jason strappò via il pilum, e Antino si sgretolò in un cumulo di terra. Poi continuò la battaglia rotteando il giavellotto, falciando spettri e abbattendo ghoul. Sul lato opposto della corte, Annabeth combatteva come un demonio. La sua spada di osso di drago annientava tutti i proci che si dimostravano così stupidi da affrontarla. Vicino alla fontana di sabbia, anche Piper aveva sguainato la spada, la lama seghettata di bronzo che aveva sottratto a Zete, il boreade. Parava e distribuiva colpi con la mano destra, lanciando di tanto in tanto raffiche di pomodori dalla cornucopia che stringeva nella sinistra, e per tutto il tempo gridava i proci, «Mettetevi in salvo! Sono troppo pericolosa!» Doveva essere proprio quello che volevano sentirsi dire, perché continuavano a scappare, per poi bloccarsi confusi in lontananza e tornare indietro alla carica. Il tiranno Ippia si scagliò su di lei con il pugnale alzato, ma Piper lo respinse con una scarica di roast beef in pieno petto. Lo spettro cadde all'indietro nella fontana, e si disintegrò urlando. Una freccia fischiò in direzione del volto di Jason. Lui la scacciò con una folata di vento, poi falciò un'intera fila di ghoul che brandivano la spada, e notò una decina di proci che si riunivano vicino alla fontana, pronti ad attaccare Annabeth. Sollevò il giavellotto verso il cielo, un fulmine rimbalzò sulla punta e ridusse i fantasmi a un cumulo di ioni, lasciando un cratere fumante nel luogo in cui prima sorgeva la fontana. Nel corso degli ultimi mesi, Jason aveva combattuto molte battaglie, eppure aveva dimenticato che effetto gli facesse. Si sentiva bene. Certo, aveva ancora paura, ma un peso enorme gli era stato appena tolto dalle spalle. Per la prima volta da quando si era risvegliato senza memoria in Arizona, si sentiva integro. Sapeva chi era. Aveva scelto la sua famiglia, e non aveva niente a che vedere con Beryl Grace e nemmeno con Giove. La sua famiglia includeva tutti i semidei che combattivano al suo fianco, romani e greci, amici vecchi e nuovi. Non avrebbe permesso a nessuno di dividerla. Evocò i venti e scaraventò tre gul giù per la collina, come fossero bambole di pezza. Ne infilzò un quarto, poi ordinò al giavellotto di tornare spada, e si fece largo a suon difendenti in mezzo a un altro gruppo di spiriti. Ben presto non c'erano più nemici disposti ad affrontarlo. I pochi spiriti rimasti cominciarono a svanire da soli. Anna betta battea sdruba le cartaginese, e Jason commise l'errore di rinfoderare la spada. Fu allora che un dolore lancinante gli esplose alla base della schiena, un dolore così acuto che per un attimo lo scambiò per il tocco di Chione, la dea della neve. Michael Varus gli ringhiò all'orecchio, sei nato romano, muori da romano. La punta di una spada d'oro sbucava dalla maglietta di Jason, appena sotto il torace. Crollò in ginocchio. L'urlo di Piper risuonò lontanissimo. Si sentì come se fosse stato immerso nell'acqua salata, il corpo senza peso, la testa ondeggiante. Vide Piper che gli correva incontro. Osservò con distacco la spada che passava sopra la sua testa e andava a conficcarsi nell'armatura di Michael Varus con un sonoro kachank. Alle sue spalle, un'esplosione gelida gli scompigliò i capelli. Uno strato di polvere si depositò tutto intorno, mentre un elmo dal legionario vuoto rotolava sulle pietre. Il semidio malvagio era scomparso, ma aveva lasciato una traccia, quanto mai durevole. Jason! Stava per crollare di lato, ma Piper lo afferrò per le spalle. Trasalì, quando lei gli strappò la spada dalla schiena. Poi si sentì adagiare a terra. La testa posata sopra un sasso. Annabeth corse al loro fianco. Aveva un brutto taglio sul collo. Nomi del cielo! Fissò la ferita di Jason. Nomi del cielo! Ripetè. Grazie! Gemette lui. E io che pensavo fosse grave! Un formicolio gli si diffuse lungo le braccia e le gambe, mentre il corpo reagiva facendo affluire tutto il sangue verso il petto. Il dolore non era acuto, e la cosa lo sorprese, visto che la maglietta era zuppa. La ferita fumava. E le ferite non fumavano. Ne era abbastanza certo. Te la caverai! Piper pronunciò quelle parole come un ordine, e riuscì a stabilizzargli il respiro. Annabeth! L'Ambrosia! Annabeth annaspò. Sì, sì, ce l'ho! Aprì il sacchetto con le provviste e scartò un pezzo di cibo degli dèi. Dobbiamo fermare il sangue! Piper tagliò l'orlo del suo vestito con il pugnale, e strappò la stoffa per farne delle vende. Jason si chiese confusamente dove avesse imparato tutte quelle cose sul pronto soccorso. Piper bendò le due ferite sulla schiena e sullo stomaco, mentre Annabeth gli infilava pezzetti di ambrose in bocca. Le dita di Annabeth tremavano. Dopo tutto quello che aveva passato, Jason trovava molto strano che ora fosse così sconvolta mentre Piper agiva con calma. Poi capì. Annabeth poteva permettersi di avere paura per lui. Piper no. Lei era totalmente concentrata nel tentativo di salvarlo. Annabeth gli diede un altro boccone. Jason, mi dispiace. Per tua madre. Ma il modo in cui hai affrontato la cosa è stato così coraggioso. Jason si sforzò di non chiudere gli occhi. Ogni volta che lo faceva, vedeva lo spirito di sua madre che si disintegrava. «Non era lei», disse. «Almeno non era una parte di lei che io potessi salvare. Non c'era altra scelta». Annabeth trasse un respiro tremante. «Non c'era altra scelta giusta, forse. Ma un mio amico, Luke, sua madre, beh, aveva un problema simile. E lui non l'ha gestito così bene». Le si spezzò la voce. Jason non sapeva molto del passato di Annabeth, ma Piper le lanciò uno sguardo preoccupato. «Ho fasciato tutto quello che ho potuto», disse. «Il sangue però inzuppa ancora le bende. E il fumo? Non capisco». «Oro imperiale», rispose Annabeth con la voce che tremava. «È mortale per i semi dèi. È solo questione di tempo e se la caverà», insiste Piper. «Dobbiamo riportarlo alla nave». «Non mi sento così male», disse Jason. Ed era vero. L'ambrosia gli aveva schiarito la mente. Il corpo stava riacquistando un po' di calore. «Forse posso volare». Provò a mettersi seduto. Vide tutto verde. «Forse no». Piper lo sostenne per le spalle, mentre lui si adagiava su un fianco. «Cavoli scintilla! Dobbiamo contattare Largo Due, farci aiutare!» Era da un bel po' che non mi chiamavi scintilla. Piper lo baciò sulla fronte. «Resta con me e ti insulterò quanto ti pare e piace!» Annabeth perlustrò le rovine con lo sguardo. Lo strato magico era scomparso. Erano rimasti solo muri crollati e scavi. «Potremmo usare i razzi d'emergenza, ma... no!», disse Jason. «Leo bombarderebbe la cima della collina con il fuoco greco!» «Forse, se mi aiutate, riuscirò a camminare!» «Assolutamente no!», obiettò Piper. «Ci metteremmo troppo!» Rugò nel suo marsupio ed estrasse uno specchietto. «Annabeth, conosci il codice Morse?» «Certo! Anche Leo!» Piper le passò lo specchietto. «Ci starà guardando di sicuro!» «Vai sul crinale... capito!» la interruppe Annabeth. «Mando a Leo un messaggio luminoso! Ottima idea!» Corse ai margini delle rovine. Piper tirò fuori una bottiglietta di nettare e ne diede un sorso a Jason. «Non ti muovere!» «Tu non morirai per uno stupido piercing!» Jason riuscì a rispondere con un debole sorriso. «Almeno stavolta non ho battuto la testa! Sono rimasto cosciente per tutta la battaglia!» «Hai sconfitto qualcosa come duecento nemici!» replicò Piper. «Sei stato incredibile!» «Da paura!» «Voi mi avete aiutato!» «Forse, ma...» «Ehi, resta con me!» Jason non riusciva a tenere il capo sollevato. Le crepe sul selciato si misero più a fuoco. «Mi gira la testa!» forbottò. «Un altro po' di nettare!» ordinò Piper. «Ecco qua!» «È buono?» «Sì!» «Sì, buono!» In realtà, il nettare sapeva di segatura, ma Jason non lo disse. Dopo la casa di Ade e le dimissioni da pretore, nettare e Ambrosia non avevano più il sapore dei suoi piatti preferiti al Campo Giove. Era come se il ricordo della sua vecchia casa avesse perso il potere di curarlo. «Sei nato romano!» «Muori da romano!» aveva detto Michael Varus. Guardò il fumo che saliva dalle vende. Aveva cose ben peggiori di cui preoccuparsi della perdita di sangue. Annabeth aveva ragione sull'oro imperiale. Quella roba era mortale tanto per i semidei quanto per i mostri. La ferita della lama di Varus avrebbe fatto il possibile per corrodere la sua forza vitale. Una volta aveva visto un semidio morire così. Non era stata una cosa rapida, e nemmeno piacevole. «Non posso morire!» si disse. «I miei amici dipendono da me!» Le parole di Antino gli risuonarono nelle orecchie. I giganti ad Atene, il viaggio impossibile che attendeva Largo Due, il misterioso cacciatore che Gea aveva mandato sulle tracce dell'Atena Parthenos. «Reina, Nico e il coach!» disse. «Sono in pericolo! Dobbiamo avvisarli!» «Ce ne occuperemo appena tornati a bordo!» promise Piper. «Adesso devi solo rilassarti!» Il suo tono era leggero e sicuro, ma aveva gli occhi lucidi di lacrime. «E poi quei tre sono dei veri duri! Ce la faranno!» Jason sperò che avesse ragione. Reina aveva rischiato così tanto per aiutarli. Il coach era una seccatura a volte, ma li aveva protetti lealmente. «E Nico?» Jason era preoccupato soprattutto per lui. Piper gli accarezzò la cicatrice sul labbro con il pollice. «Quando la guerra sarà finita, tutto si sistemerà per Nico. Hai fatto quello che potevi, dandogli la tua amicizia.» Jason non sapeva cosa dire. Non aveva raccontato nulla a Piper della conversazione con Nico. Aveva mantenuto il suo segreto. Eppure, lei sembrava aver percepito che c'era qualcosa. Come figlia di Afrodite, forse riusciva a intuire quando qualcuno soffriva per amore. Però non gli aveva fatto nessuna pressione per saperne di più. E lui lo apprezzava. Un'altra ondata di dolore lo fece trasalire. «Concentrati sulla mia voce!» Piper lo baciò sulla fronte. «Pensa a qualcosa di bello!» «La torta di compleanno in quel parco di Roma!» «È stato bello, sì!» «L'inverno scorso!» Suggerì ancora lei. «La battaglia con i marshmallow abbrustoliti sul falò!» «Pendo dalle tue labbra!» «Ti sono rimasti dei pezzetti di marshmallow appiccicati fra i capelli per settimane!» «Non è vero!» La mente di Jason scivolò via verso tempi migliori. Avrebbe tanto desiderato restare lì a parlare con Piper, mano nella mano, senza preoccuparsi dei giganti o di Gea o della follia di sua madre. Sapeva di dover tornare a bordo della nave. Era conciato male. E poi avevano ottenuto le informazioni per cui erano venuti. Ma mentre giaceva su quelle pietre fredde, aveva la sensazione che non tutto fosse compiuto. La storia dei proci e della regina Penelope. I pensieri che aveva fatto sulla famiglia. Gli ultimi sogni. Ogni cosa roteava nella sua testa. C'era qualcos'altro in quel posto. Qualcosa che non riusciva ad afferrare. Annabeth tornò giù dal crinale zoppicando. «Sei ferita?» Le chiese Jason. Lei si guardò la caviglia. «No, sto bene. È solo quella vecchia frattura che mi sono procurata nelle caverne romane. A volte, quando sono stressata, non ha importanza. Ho segnalato la situazione a Leo. Frank muterà forma, volerà qui e ti condurrà a bordo. Devo costruire una barella per trasportarti in sicurezza». Per un attimo terribile, Jason si immaginò aggrovigliato in una specie di amaca che penzolava nel vuoto, tra gli artigli di Frank, l'aquila gigante. Decise, era meglio non pensarci. Annabeth si mise all'opera. Raccolse quello che i proci avevano lasciato in giro. Una cintura di pelle, una tunica strappata, le stringhe di qualche sandalo, una coperta rossa e un paio di lance spezzate. Le sue mani si muovevano velocissime. Strappavano, tessevano, legavano, intrecciavano. «Ma come fai?» chiese Jason stupito. «L'ho imparato durante la mia impresa romana». Annabeth non distolse gli occhi dal lavoro. Non avevo mai avuto motivo per provare a tessere prima di allora. Ma in certi casi torna utile. Per esempio, se vuoi scappare dai ragni. Annodò un ultimo pezzetto di corda di cuoio e voilà! Ecco pronta una barella delle dimensioni giuste per Jason, con le lance a mo' di maniglie e delle cinture di sicurezza al centro. Piper approvò con un fischio. «La prossima volta che devo farmi aggiustare un vestito, verrò da te!» «Piantala, McLean!» replicò Annabeth, ma i suoi occhi scintillavano di soddisfazione. «Ora, leghiamolo bene, aspettate!» disse Jason. Gli batteva forte il cuore. Mentre guardava Annabeth che intrecciava quella brandina di fortuna, si era ricordato la storia di Penelope, in modo in cui aveva resistito per venti lunghi anni, nell'attesa che il marito Odisseo facesse ritorno. «Un letto!» disse. «C'era un letto speciale in questo posto!» Piper assunse un'espressione preoccupata. «Jason, hai perso molto sangue!» «Non sto delirando!» insiste lui. «Il letto matrimoniale era sacro!» «Se esiste un solo posto in cui è possibile parlare con Giunone!» Trasse un respiro profondo e chiamò «Giunone!» Silenzio. Forse Piper aveva ragione. Non era lucido. Poi, a una ventina di metri di distanza, una crepa si aprì nel pavimento di pietra. Rami sbuccarono a forza dal terreno, rapidi e decisi, finché un ulivo adulto non ombreggiò la corte. Sotto un ombrello di foglie grigio-verdi c'era una donna dai capelli scuri con una veste dorata, un manto di pelle di capra drappeggiato sulle spalle. Un fiore di lotto bianco spuntava all'estremità del suo scettro. Il viso era freddo e regale. «Miei eroi!» disse la dea. «Era!» esclamò Piper. «Giunone!» la corresse Jason. «Fa lo stesso!» tagliò corto Annabeth. «Che ci fai qui, nostra bovina maestà?» Gli occhi scuri della dea luccicarono pericolosamente. «Annabeth Chase!» «Incantevole come sempre!» «Abbè!» replicò lei. «Sono appena tornata dal tartaro, perciò le mie buone maniere sono un po' arrugginite. Soprattutto verso la dea che ha cancellato la memoria del mio ragazzo, lo ha tenuto nascosto per mesi e poi...» «Sul serio, figliola!» «Dobbiamo rivangare tutto di nuovo?» «Ma non dovresti soffrire di doppia personalità?» chiese Annabeth. «E cioè... più del solito?» «Calma!» intervenne Jason. Anche lui aveva parecchie ragioni per odiarla, ma c'erano altre questioni di cui occuparsi. «Giunone, ci serve il tuo aiuto!» «Noi...» cercò di mettersi a sedere e se ne pentì all'istante. Era come se una forchetta gigante gli attorcigliasse le budella. «Piper gli impedì di cadere!» «Una cosa alla volta!» disse. «Jason è ferito! Guariscilo!» La dea grottò la fronte. La sua figura tremolò incerta. «Ci sono cose che nemmeno gli dei possono guarire!» ribatté. «Questa ferita tocca la tua anima così come il tuo corpo!» «Devi combatterla, Jason Grace!» «Devi sopravvivere!» «Sì, beh, grazie!» replicò lui con la bocca secca. «Ci sto provando!» «In che senso tocca la sua anima?» domandò Piper. «Perché non puoi...» «Miei eroi, il tempo che ci è concesso è poco!» continuò Giunone. «Vi sono grata per avermi evocato. Ho trascorso settimane in un doloroso stato di confusione. Con le mie due nature, greca e romana, in guerra fra loro. E quel che è peggio, sono stata costretta a nascondermi da Giove, che mi sta cercando convinto, nella sua furia malata, che io abbia causato questa guerra con Gea!» «Caspita!» commentò ironica Annabeth. «Come gli sarà venuto in mente?» Giunone la fulminò con uno sguardo irritato. «Per fortuna questo luogo mi è sacro. Spazzando via quegli spiriti, voi lo avete purificato, concedendo a me un momento di lucidità. Sono in grado di rivolgermi a voi, ora. Anche se brevemente.» «Perché questo luogo è...» Piper sgranò gli occhi. «Oh, il letto matrimoniale!» «Un letto matrimoniale?» chiese Annabeth. «Non vedo nessun... Il letto di Penelope Odisseo!» spiegò Piper. «Una delle colonne del baldacchino era un vero ulivo, perciò il letto non poteva essere spostato.» «Esatto!» Giunone accarezzò il tronco dell'albero con la mano. «Un letto matrimoniale inamovibile!» «Che magnifico simbolo!» Come Penelope, la sposa più fedele, che difende il suo matrimonio, tenendo a bada per anni un centinaio di spudorati pretendenti, quei proci, perché sapeva che suo marito sarebbe tornato. Odisseo e Penelope, l'epitome del matrimonio perfetto!» Per quanto fosse stordito, Jason ricordava piuttosto bene le storie che Odisseo aveva avuto con altre donne durante i suoi viaggi, ma decise di non farlo notare. «Puoi darci almeno un consiglio!» chiese. «Dirci che cosa fare!» «Fate rotta attorno al Peloponneso!» rispose la dea. «Come sospettavate, è l'unica via possibile!» «Durante il tragitto cercate la dea della vittoria a Olimpia!» «È fuori controllo!» «Se non riuscirete a sottometterla, il conflitto fra Grecci e Romani non potrà mai essere sanato!» «Vuoi dire miche?» chiese Annabeth. «In che senso è fuori controllo?» Un tuono rombò nel cielo, scuotendo la collina. «Ci vorrebbe troppo tempo per le spiegazioni!» rispose Giunone. «Devo fuggire prima che Giove mi trovi!» «Quando me ne sarò andata, non sarò più in grado di aiutarvi!» Jason dovette inghiottire una rispostaccia. «E quando mai mi avresti aiutato?» «Che altro dobbiamo sapere?» chiese invece. «Come avete sentito, i giganti si sono riuniti ad Atene. Alcuni dei potranno aiutarvi durante il viaggio, ma io non sono l'unica a essere caduta in disgrazia con Giove. Anche i gemelli sono incorsi nella sua ira.» «Artemide e Apollo?» domandò Piper. «Perché?» L'immagine di Giunone cominciò a svanire. «Se giungerete sull'isola di Delo magari vi aiuteranno. Sono abbastanza disperati da provare di tutto per fare ammenda. Ora andate! Forse ci incontreremo di nuovo ad Atene se ce la farete.» «In caso contrario...» «La dea scomparve.» «O forse gli occhi di Jason cedettero.» «Il dolore lo travolse.» «Reclinò la testa.» «Scorse un'aquila gigante che volteggiava nel cielo.» «Poi l'azzurro diventò nero.» «E non vide più nulla.» «E non vide più nulla.» «Bueno, è un'aquila di totale.» «I ne vittori no». «Poi l'azzurro diventò.» «Poi l'azzurro diventò.» «Poi l'azzurro diventò.»